Musica Eeeh ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani Sono sempre qui ragazzi su Firefall Questo videogioco sta riscuotendo sul nostro canale un certo successo Molte persone mi chiedono di fare delle cose, dei tutorial E infatti sono qui proprio per questo Spero insomma che si evolverà questo videogame nella maniera giusta Insomma senza incontrare i soliti ostacoli diciamo così Burocratici che affliggono un po' i free to play Sono qui ragazzi questa volta perché volevo mostrarvi Mi è stato chiesto in particolar modo Come si fa a generare insomma le tre risorse principali in Firefall Eccoci qui Siamo qui ragazzi quindi vi faccio vedere un attimino una cosa veloce così Allora questo è il Battleframe Garage Dove praticamente potenziamo il nostro personaggio insomma Ed eccoci qua Bello il mio personaggio E praticamente allora questi sono praticamente come vedete Tre strutture che andremo a sbloccare mano a mano Ogni cerchietto insomma ogni caratteristica Avanza mano a mano fino a raggiungere il livello massimo Per sbloccare come vedete per esempio il livello 1 Ci volevano 4000 punti esperienza e 100 cristalli di cristite insomma Più si va avanti poi più vengono richiesti anche Quest'altra per esempio le CPU Tech 4 24000 punti esperienza 400 di cristite di cristalle sempre E richiedono 250 organic per esempio Come si fa a generare questi organic per poi sbloccare questa caratteristica Vediamo qui vengono chiesti per esempio Qui vedete manca 250 di gas in rosso segnato perché manca E qui invece minerali Quindi avremo minerali in questa linea Gas e organici E sono racchiosi qui Io ho 2152 organici 121 mila punti esperienza 2012 di minerali E 61 di gas Vedo che il gas è poco E adesso andiamo a vedere come si fa A raffinare questi elementi In modo da aumentarli E poter sbloccare poi Insomma le varie caratteristiche del personaggio E ci viene in aiuto sempre Il terminale Praticamente Lo stampatore molecolare Avevo finito una cosa in coda Ok Adesso andiamo subito sulla Sulla label Di raffinazione Refine che si trova dentro Mi raccomando Nell'ultimo video Intendevo dire Come produzione Raffinazione Refine E ricerca Research Intendevo questo ovviamente in italiano Per costruire Per raffinare I minerali Le risorse Praticamente bisogna usare Questo che è il Raw Resource Raffini 1 O 2 Diciamo usiamo l'1 Io ho sbloccato anche il 2 Che permette di mettere più robot Su stanza Se non ce l'avete Il Raw Resource Refining Basta andare su Ricerca e farlo E trovarlo Insomma Scoprirlo Come vedete Io qui Nelle ricerche Praticamente Posso sbloccare anche quello Di livello 3 Che non ho ancora avuto modo Di sbloccarlo Comunque Ritorniamo Andiamo sulla raffinazione Qui ci aiuta Moltissimo questo filtro Per cercare le cose Quindi Ok Quindi Raw Resource Refining 1 Che cosa si fa? Si clicca su questo cubetto E vi mostrerà la lista Di tutte le cose Che avete a disposizione Per poter raffinare Quindi andandoci su Si apre una piccola finestrina Vedete E qui c'è del gas Per esempio Vedete C'è scritto Non ci posso andare col cursore su Perché se no si sposta Quindi Questa sostanza Praticamente Produrrà del gas C'è scritto nella descrizione Questa produrrà organic Questa produrrà Minerali E via discorrendo Quindi che cosa va? Io dovevo produrre del gas Mi mancava Clicco su questo Ok Quindi 421 Vedete anche la quantità Insomma Più ne Magari se ne volete di più Cercate un altro Ecco per esempio Questo 161 Volendo ma di meno Quindi Preferisco raffinare Questo Questa Raw Radin qua Insomma Che mi permette di avere Una quantità di 421 Quindi accetto Ecco qui Ed è pronta La La raffinazione Parte con La Processing Ecco qui Quindi parte Praticamente La generazione Di questo gas Come vedete C'è un tempo Di costruzione Per Per raffinare Il gas Finito il quale Quando venite qui Troverete come prima Quel bottone verde Cliccateci su E vedrete che Praticamente Non c'è bisogno Che stiamo qui Mentre Mentre Lo stampatore Molecolare Costruisce le cose Prendiamo il tasto Esco Usciamo Quindi praticamente Una volta che avrete Recuperato il gas Dallo stampatore Molecolare Rivenite di nuovo Nel battle In garage E ritroverete Insomma Il totale di gas Aumentato Così vale ovviamente Per i minerali Gli organici E il gas Così potete sbloccare I vostri Diciamo I vostri potenziamenti Del personaggio Quindi entrano in gioco Giusto per ricapitolare L'esperienza L'organic Minerali E gas Tutto qui Con questo è tutto Mugeadini L'ultimo aiutare Bani Napoletani Vi saluta A presto E ciao A presto A presto A presto A presto A presto